buongiorno ragazzi eccoci qua sul canale tecno alex 73 oggi faremo l'unboxing del nokia grande prodotto appena uscito nokia 6 ds caratteristiche tecniche sono sono queste qua allora abbiamo 3 giga di ram 32 giga di storage interno con lo slot della micro sd quindi espandibile fino a 128 giga 16 megapixel i megabyte megapixel della fotocamera poi abbiamo un processore octa core a 64 bit che è il qualcomm snapdragon display da 5,5 pollici full hd quindi 1080 pixel per secondo e abbiamo materiali pregiati vetro davanti alluminio dietro 4g lte wifi andiamo a vedere cosa contiene la confezione lo apriamo vediamo cosa c'è dentro grande ritorno della nokia sul mercato degli smartphone dei telefoni allora il terminale lo sottilissimo leggero tutto in cielo fanato abbiamo dietro abbiamo fotocamera e flash led scritta nokia messa per lungo l'altra fotocamera flash led di notifica sul davanti capsula auricolare sotto micro sd per ricaricare il telefono e auto parlanti e microfono 2 sopra abbiamo un jack per le cuffie e l'antenna per il wifi a connessione internet andiamo a spellicolare allora sul lato destro abbiamo accensione spegnimento e il bilanciere del volume lato sinistro lo slot per la micro sd sul davanti abbiamo tasto centrale home che non è cliccabile quindi deve essere impronta digitale e scorrimento e i due tastini retroilluminati avanti indietro e cancellare tutto soltanto che si accende vediamo cosa c'è nella nella confezione allora qua abbiamo la spillina la spillina per levare la sim vari manuali di istruzioni e garanzie nokia qua sotto pacchetto chiuso vediamo sicuramente carica batterie carica batterie 2.0 per ora il cavo per ricaricarlo collegarlo a un pc o alla presa che abbiamo visto prima e le cuffie auricolari in media media portata diciamo con il tastino per rispondere a buttare giù la chiamata mettiamo il tutto dentro sistema operativo è 7 1 1 android prima configurazione in questa qua display tra fori in grippa molto abbiamo al lato queste questa cornicetta in alluminio sopra e sotto che divide la striscia centrale di alluminio nero dietro alluminio nero satinato con rilevanza alla fotocamera se si vede ma appena appena sarà un millimetro di spessore e davanti è tutto rivestito in vetro con leggermente i bordi curvati ok questo è nokia 6 l'ultimo uscito della casa nokia adesso farò la prima configurazione poi semmai vedremo lo vedremo in azione più nel dettaglio che ragazzi mi raccomando mettete i mi piace i pollicioni e iscrivetevi al canale tecno alex 73 ciao e al prossimo video